Sono Michelangelo Di Toma. Smokehead non è il nome di una distilleria, ma è il nome di fantasia ideato da Leonard Russell per un suo prodotto particolare. È un'idea di marketing che nasce intorno al 2012, in cui viene presentato, primo tra tutti, uno Smokehead. Leonard Russell, il proprietario della Yann McLeod, acquista da una distilleria sull'isola di Aile una serie di barili. Li lascia lavorare in una particolare maniera e poi dopo li imbottiglia. A quel punto nasce il primo Smokehead che ha subito un successo. Ha un successo sia per la veste sia per il packaging. Noi qui vediamo la veste del 2022. Ma le bottiglie originali erano trasparenti e dietro, nel retro della bottiglia, si leggevano delle parole. Quella bottiglia, le bottiglie originali, sono state premiate con i premi da migliore impronta di marketing legata ad una bottiglia di whisky. Sono stati premiati dalle migliori agenzie che danno i premi a queste invenzioni di marketing proprio per il modo con cui veniva presentato questo whisky. Smokehead. Siamo sull'isola di Aile. Dopo il successo dello Smokehead nel 2012 nasce Smokehead High Voltage, una gradazione alcolica a 58 gradi. Subito dopo arrivano delle release, dei rilasci che sono particolari. Uno di questi, insieme al Rue Rebel, è Sherry Bomb. Smokehead e Sherry Bomb è il nostro momento, è la nostra occasione speciale, è il nostro momento particolare in cui noi, nell'arco della nostra giornata, incontriamo il whisky. E' quello che noi abbiamo nel bicchiere, questo whisky che abbiamo nel bicchiere, a questo punto aspetta solo noi per poterci incontrare. ne sentiamo il profumo. La parola è sempre molto chiara, l'etichetta ce lo dice. Siamo su una distilleria segreta, che non posso rivelare neanche sotto tortura, dell'isola di Aile, in internet ne trovate tante, di ipotesi fantastiche. E' una selezione particolare, lavorato questo whisky di questa distilleria nella distilleria per Ian McLeod, solo e esclusivamente in botte di Sherry. I 48 gradi si sentono, ma non danno fastidio, perché probabilmente è la gradazione giusta dell'alcol per dare enfasi a quello che sono i sapori e i profumi di questo whisky. Poi all'olfatto sentiamo la sensazione di Sherry, è piena, è robusta e densa. Questo whisky sembra già essere oleoso all'olfatto. E poi a questo punto lo assaggiamo. Lo mastichiamo ed ecco il sapore di Sherry che ci coinvolge, ci avvolge. Ma soprattutto quello che ci esplode è la sensazione del fumo, di fumoso e di turba. Ecco, questa occasione speciale è per chi ama un whisky turbato. Ovvero quel whisky che ha quel profumo di fumo piuttosto evidente. E il whisky turbato in questo caso è stato invecchiato solo e unicamente in una botte di Sherry. Questo ha dato origine ad un whisky particolarissimo. Chiunque gli amanti del whisky turbato, chiunque si avvicini a questo whisky, sentendo queste esplosioni, sentendo questi aromi, questi profumi, ne rimane innamorato. Immediatamente a portata di mano delle ciliegie, immediatamente delle fragole, immediatamente della frutta, tutta da intingere nel cioccolato e da degustare. Che meraviglia! Un'idea spettacolare per accompagnare questo whisky. Ancora l'olfatto, soffio nel bicchiere per far allontanare le note dell'alcol. Sento il profumo, Sherry coinvolgente, ma soprattutto fumo, fumoso, cenere, cuoio, tabacco. Per gli amanti del whisky turbato, quindi per gli amanti di questo whisky particolare, Smookhead, Sherry Bomb, rappresenta un buon punto per un momento particolare in un'occasione speciale della giornata. E il nostro vestito, il nostro abito, per questo momento. Lo assaggiamo insieme. Le note di ciliegia e le note di uva e di Sherry emergono, ma poi questa sensazione piacevole di fumo, a chi piace ovviamente, di fumo, di fumoso, di torba che ci avvolge, ci coinvolge, questa sensazione di cenere, un retrogusto estremamente lungo, prolungato proprio dalla botte di Sherry. Questo è il momento giusto per poter degustare Sherry Bomb. E questo è il momento che noi abbiamo scelto per indossare un whisky in un momento speciale della nostra giornata. Slanjava, alla salute. Grazie a tutti.